La prossima Garibaldi è nata un anno fa, quando sono due anni che sono iscritti al circolo filatelico è nata questa idea, per ricordare il centicpantesimo anniversario dell'Italia ho cercato di procurarvi tutti i francobolli di quando ero sempre Garibaldi qui c'è la storia, la presentazione e qui sono i vari francobolli a partire dal Regno d'Italia dal 1910 a proseguire fino ad oggi, fino al 2010 poi c'è San Marino, dove Garibaldi si è rifugiato dopo la Repubblica Romagna nel 1849 e poi c'è la serie coloniale la serie coloniale, le colonie delle sue isle del Dodecaneso hanno dedicato 147 francobolli ai Garibaldi qui ho solo esposto una parte praticamente e poi sono anche da Taccatolini, francobolli delle missioni estere missioni primo giorno ciao, grazie Paolo grazie